se può sapere che c'è in quella testa vuota te può fare sta zitta mannaggia tu pensa a portare i soldi a casa da una manastin capace del mare dai perché ha toccato nervo scoperto che riguarda un tipo di discriminazione anche verbale è un tipo di prevaricazione verbale che purtroppo ancora c'è verbale ma insomma nei gesti quotidiani che c'è nella che ancora è come dire una sacca resistente di quella cultura del patriarcato che c'è ancora molto viva nel nostro paese purtroppo il tema della violenza sulle donne è un tema sempre attuale e quindi questo film sensibilizza tantissimo e fa capire come l'amore di questa di questa madre per la figlia ha l'importanza anche dell'istruzione perché parte tutto da lì quindi un'istruzione per rendere un futuro roseo alle donne con il diritto di voto vabbè vedi come sono vabbè 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 Grazie.